85 questions past tense one domande passato uno domande passato uno how much did you drink quanto ha bevuto quanto ha bevuto how much did you work quanto ha lavorato quanto ha lavorato how much did you write quanto ha scritto quanto ha scritto how did you sleep come ha dormito come ha dormito how did you pass the exam come ha fatto a superare l'esame come ha fatto a superare l'esame how did you find the way come ha fatto a trovare la strada come ha fatto a trovare la strada who did you speak to con chi ha parlato con chi ha parlato con chi ha preso appuntamento con chi ha preso appuntamento with whom did you celebrate your birthday con chi ha festeggiato il compleanno con chi ha festeggiato il compleanno where were you dove è stato dove è stato dove ha abitato dove ha abitato dove ha abitato dove ha abitato where did you work dove ha lavorato dove ha lavorato dove ha lavorato what did you suggest che cosa ha consigliato che cosa ha consigliato che cosa ha mangiato che cosa ha mangiato che cosa ha mangiato what did you experience che cosa è venuto a sapere che cosa è venuto a sapere how fast did you drive a che velocità è andato a che velocità è andato how long did you fly quanto è durato il volo quanto è durato il volo how high did you jump fino a che altezza è andato